Sono Paolo Gionchietti, dirigo il Centro per le Mattie Infermatorie Croniche Intestinali del Policlinico Sant'Arsenal Malpighi di Bologna. Volevo ricordarvi che dal 28 novembre al 4 dicembre si svolgerà in modalità virtuale il congresso nazionale IGBD e in particolare vorrei ricordare che lunedì 29 novembre dalle ore 17 alle ore 17 ci si svolgerà una sessione dal titolo Targeting HIL 12-23 in Inserting Colitis from Evidence to Bedside. Ci sarà il professore Luzi come moderatore, il professore D'Ambri, il professor Danese con me e io in particolare vi parlerò del programma Unify e vi aspettiamo un numero su questo attentamento. Grazie Grazie